La Regione Puglia ha finanziato 1.800.000 euro per due interventi nell'ambito dell'abitare sostenibile e solidale nella città di Foggia. Il primo intervento prevede la realizzazione di alloggi di Tivo Anzeb, cioè edifici ad elevata efficienza energetica il cui funzionamento richiede una quantità di energia minima. Il secondo intervento prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione relativa all'utilizzo di una pista ciclabile e una velo-stazione nel rione Biccari. Gli edifici sono tra i maggiori responsabili del rilascio di emissioni e di elevato dispendio energetico nel settore delle costruzioni. Un edificio Zeb è realizzato secondo i principi della progettazione sostenibile e bioclimatica, in grado di sfruttare al meglio le risorse naturali come il sole e il vento, alimentandosi ad energia rinnovabile con impianti tecnologicamente avanzati. Con l'aggiunta di soluzioni per la mobilità lenta ed urbanizzazione di qualità, queste aree diverranno aree di sviluppo completamente sostenibile. Il progetto sarà realizzato dall'ARCA con tempi di costruzione previsti di 18 mesi. Un importante risultato ha commentato il sindaco di Foggia, Franco Landella, raggiunto attraverso la sinergia istituzionale tra il comune, l'ARCA e la regione. Ringrazio la regione per la lungimiranza con la quale contribuisce alla risoluzione dell'emergenza abitativa con soluzioni di qualità.